Buongiorno a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere questo kit, o meglio, l'avete già visto in un altro video. È un kit della SES per poter realizzare dei bellissimi origami fatti con gli animali. E questa volta realizzeremo insieme questo pinguino. Siete pronti? Naturalmente se avete voglia, continuate a guardare questo video. Per questo pinguino ci serviranno semplicemente due fogli. Questo che è appunto tutto colorato e questo nero. E poi un pezzetto di questo biadesivo che ci servirà per completare il tutto. E naturalmente delle forbici. Vedete? Su questa carta si vedono già delle linee che saranno le nostre guide per poter realizzare il pinguino. E su queste guide faremo queste pieghe. Quindi prima di tutto in questo modo. Poi lo giriamo. E seguiamo le altre linee con l'ala del nostro pinguino verso l'interno. Una. E uno, due. E poi pieghiamo così per formare la testa. E guardate qua, siamo già quasi a cavallo. C'è poi questa carta invece che è super colorata che piegheremo quindi a metà secondo la diagonale. E poi, vedete, ci sono tante altre linee. In particolare prima su questo lato. E poi su questo. E ora prendiamo un pezzetto di biadesivo, anzi due, tagliamo così piccolini e incolliamo. A questo punto. E poi direi un po' più in basso. Così. Naturalmente vi dicevo è un biadesivo, quindi rimuoviamo ora l'altra parte. E siamo pronti per incollare il resto del nostro pinguino. Incolleremo quindi in questo modo. Ed ecco qua, guardate. Questo è il nostro pinguino alla fine. Così che possa essere più stabile e naturalmente avere anche delle piccole ali in fondo. Guardate, questi sono i nostri piedini. E come vi dicevo si possono realizzare tanti altri animali, come per esempio questo cagnolino. Guardate, sono proprio carini, non pensate anche voi. E questo può anche stare in piedi, vedete? Spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente fatemi sapere cosa ne sapete. Quindi scrivete questo tutto nei commenti. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao!